Ehm... Ehm... Quello sembra proprio un accampamento di banditi. Ce ne occupiamo noi, fratello? Credo non ce ne siano altri. Padre, erano gli stessi banditi da cui abbiamo salvato i nostri lupi da cuccioli. Sì, erano i banditi Cole, i mangialupi. Scommetto che hanno altri accampamenti. Vorrei occuparmene, così non potranno più far male ad altri animali. Forse. Ehm... 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 Ehm...